Ciao a tutti, io sono Maria e questo è il mio fratellone Sebastian, ma lo chiamiamo Seba per risparmiare tempo e soldi in terapia. Eccomi! Ma a parte le battute, siamo qui per parlare di MS Immobili, la nostra nuova agenzia e chiaramente la più cool della zona. Sì, perché qui da noi non trovate solamente un'agenzia, ma anche una famiglia. Non ti aiutiamo soltanto a vendere o comprare casa, ma ti guidiamo in ogni fase della trattativa con amore e dedizione. E se ti stai chiedendo perché siamo così bravi, beh, ti svelo il segreto. Abbiamo passato anni a giocare a Monopoli e The Sims per imparare tutto sul mondo degli immobili. Ma scherzi a parte, siamo qui per fare la differenza nel mondo immobiliare. Siamo professionisti, ma allo stesso tempo siamo creativi e innovativi. Già, perché da noi non si tratta soltanto di vendere una casa, ma di farla brillare come a Hollywood. Grazie alla nostra tecnica di home staging, le proprietà che vendiamo sembrano uscite da una rivista di design. E non solo, utilizziamo anche la magia della tecnologia per presentare ogni casa in modo efficace. Grazie ai nostri video e foto professionali, le case sembrano ancora più belle. E per raggiungere il pubblico giusto, investiamo in pubblicità mirata sui social media. Se vuoi vendere la tua casa, qui da noi, non la vedranno solo i vicini, ma la vedrà il mondo intero. E se invece stai cercando una casa in affitto, siamo qui anche per te. Grazie al nostro servizio di gestione immobiliare, non ti devi preoccupare di nulla. Ci occupiamo di tutto noi. Insomma, non ci limitiamo soltanto a vendere case, ma offriamo un'esperienza personalizzata per ogni cliente. E se vuoi scoprire ancora di più sul mondo immobiliare, ti consigliamo di seguirci sui nostri canali social. Oltre alle nostre belle facce, troverai anche un sacco di video educativi per navigare nel mondo degli immobili. E se avete dubbi o domande, siamo sempre a vostra disposizione per rispondere alle vostre richieste. Quindi, cosa aspettate? Venite a trovarci nella nostra nuova agenzia immobiliare a Villatora di Saonara e scoprite cosa possiamo fare per voi. MS Immobili, l'agenzia immobiliare più cool e professionale della zona.